Ci troviamo quest'oggi all'Istituto Comprensivo Ciusa qui a Cagliari per continuare a parlare di Tuvigeddu, per mantenere ancora vivo l'interesse e cercare di far arrivare un importante messaggio con noi il Preside dell'Istituto che ospitate oggi questo evento. Sì, ci è sembrato importante ed opportuno, proprio a distanza di tanti anni delle vicissitudini di Tuvigeddu, creare un evento con la collaborazione dell'associazione che ospitiamo al fine di dare spazio, informazione, visibilità ad uno dei siti più importanti a livello europeo, se non mondiale. L'ASECON che sta portando avanti questo progetto di informazione, lei che ha a che fare con i ragazzi tutti i giorni, pensa che questo sia un messaggio più o meno importante e che è meglio far scoprire la nostra storia, i ragazzi, anche con questo sistema? Non a caso l'evento prende il nome di Tuvigeddu a Esmiriones, con l'idea e il sogno di riportare all'interno dei quartieri cagliaritani le sue tracce storiche, farle vivere e soprattutto che non vengano disperse col passare degli anni, perché il rischio è proprio questo. L'impossibilità di poterlo visitare, la scarsa informazione che potrebbe non circolare ci ha spinto ancora di più ad inserire nei nostri curricula scolastici la possibilità di discutere e di parlare di questo tema. Ecco, potrebbe essere anche magari un nuovo sistema o meglio una nuova proposta per insegnare un nuovo tipo di didattica ai ragazzi, magari facendogli vivere effettivamente la storia che noi possediamo rispetto a magari anche un approccio più didattico, magari uno più a contatto. Sì, questo è senza dubbio uno dei nostri obiettivi. Non solo negli anni passati abbiamo sempre perseguito questa linea, ossia attraverso la didattica museale e attraverso il contatto diretto prima con i siti e poi con la teoria abbiamo verificato che questo ha dei risultati decisamente migliori che non partire da una teoria basata soltanto sui libri di testo. Riteniamo che l'immersione diretta dei ragazzi, anche giovanissimi, all'interno di siti archeologici possa poi portarli alla curiosità, allo studio.